Buongiorno a tutte e a tutti. Il Consiglio regionale è stato monopolizzato per tre giorni dalla trattazione del piano della salute e del benessere, un argomento importantissimo per la comunità valdostana e molto sentito da tutti i cittadini. Questo è un piano di natura programmatoria che contiene le linee di indirizzo per attuare la gestione dei problemi sanitari e sociali per gli anni 2022 e 2025. Già parlare di 2022 e 2025 quando siamo nel 2023 inoltrato fa specie, è un documento che abbiamo richiesto di aggiornare perché una parte dei suoi contenuti sono in attuazione e un'altra parte dovranno venire attuati e pertanto non è neanche semplice avere un quadro chiaro di quelle che sono le azioni che vedranno delineate. È stato concepito come un menu alla carta di un grande ristorante, vengono indicati tanti piatti ma bisognerà poi vedere al momento dell'ordine se i piatti ci saranno o ci verrà detto le derrate alimentari non sono state consegnate, questo piatto non è confezionabile oppure potranno evidenziare tutta un'altra serie di giustificazioni che pregiudicheranno l'attuazione delle iniziative contenute. Inoltre va evidenziato che questo è un piano di carattere generale che trae ispirazione da tante norme di carattere nazionale, quindi della volontà dello Stato di attualizzare le risposte che la sanità pubblica dà alla comunità. Non sono tanto delle iniziative che nascono dall'esigenza interna al nostro territorio di dare delle soluzioni a dei problemi, è un piano indotto e quindi questo è un fatto al nostro avviso molto preoccupante, è un piano che non fa della grande autocritica, non ne abbiamo sentita molta in Consiglio regionale, in Consiglio regionale la maggioranza ci ha detto ma la sanità valdostana tutto sommato dà dei buoni prodotti, dà un buon servizio e però è vero che c'è un percepito da parte dell'opinione pubblica che non è corrispondente a questa realtà. Noi crediamo che non sia un percepito da parte dell'opinione pubblica perché il percepito riferisce alla sfera emozionale delle sensazioni, ma che sia il giudizio dell'opinione pubblica che è negativo rispetto al servizio che viene oggi erogato dalla pubblica amministrazione e dalla sanità valdostana. Basta pensare alle liste d'attesa, è capitato tutte le famiglie di dover ricorrere a delle cure, è vero che mancano le professionalità non solo in Valle d'Aosta ma anche in tutto il resto d'Italia, ma è vero che noi abbiamo delle problematiche che sono evidenziate ancora in modo più esplicito che in altre realtà perché sono dettate dalla piccola dimensione della Valle d'Aosta e dall'impossibilità di fare massa critica sotto il profilo dei numeri. Abbiamo delle difficoltà aggiuntive. È sicuramente una situazione che è il punto di arrivo di un percorso di declino ormai decennale di questo settore dove non si vedono ancora oggi delle azioni riorganizzative che possano invece dare soluzione ai problemi perché non è sufficiente indicare a livello programmatico degli indirizzi ma quello che conta è l'organizzazione. Non possiamo pensare che in una regione senza professionalità necessarie o nel numero inferiore rispetto a quelli che sono i bisogni non si possa ricorrere all'esterno della Valle e quindi se la Valle rimane isolata che non è dotata delle infrastrutture necessarie dove un primario può dormire a Torino e lavorare a Osta non si risolverà mai il problema. Quindi è un problema questo che necessita una politica di visione complessiva del sistema Valle d'Aosta che richiede un approccio multidimensionale senza il quale non si riesce a uscire da questa situazione di estrema difficoltà. In questo contesto abbiamo presentato un sacco di iniziative come minoranza consigliare, abbiamo promosso una sessantina di ordini del giorno e di emendamenti che sono stati in parte condivisi dalla maggioranza ma c'è stato un approccio scandaloso perché ci hanno chiesto di ritirarli o diversamente si sarebbero astenuti. Hanno preso questa esperienza, questo momento di consiglio come un gioco, non volevano prendersi degli impegni valdostani formali sull'attuazione dei contenuti del piano e questo ci rincresce molto perché per noi al centro ci sta la salute dei valdostani e la tutela del pubblico interesse. Noi crediamo che il pubblico debba assumersi delle responsabilità e debba affrontare in modo diverso l'attuazione di questo piano perché richiede una grande capacità di visione, di riorganizzazione per migliorare tutte le situazioni di oggettiva difficoltà che stiamo vivendo.